Non per forza devono essere le gare di alta quota a creare appeal nei campionati dilettantistici perché ci sono incontri che possono avere sensazioni ed emozioni particolari anche senza avere una posta in palio alta. Vissariano con Prensorio Miscano è uno di quelli. Una sorta di derby perché tra le fila degli ospiti ci sono anche tanti arianesi ed ex di turno. Sarà una gara particolare soprattutto per Gerardo Del Vecchio e Carmelo Marinaccio, uno di fronte all'altro, amici che per 90 minuti saranno contro. Il primo ha sostituito proprio il secondo sulla panchina della Viss lo scorso anno. Ma il trainer miscanese non sarà l'unico ex dell'incontro, ci sarà anche Francesco Marinaccio numero 10 giallo-nero, così come Virgilio Mbimbo, Carmelo Di Lorenzo, Raffaele Sebastiano e Agostino Santosuosso, senza dimenticare il bomber Vincenzo Verrilli. 12 gol siglati in questa stagione, 4 in meno di Peppe Capodilupo, cannoniere dell'Ariano, quest'ultimo in gol all'andata. Demari, Demari in posizione regolare, Demari, Demari, uno contro uno col portiere, ancora Serratiello, poi Verrilli e la mette in rete Verrilli, c'è il pareggio del comprensorio miscano con Verrilli. Una sfida nella sfida per due giocatori d'assoluto valore che sono pronti a darsi battaglia dal primo all'ultimo minuto. Bene, seconda parte di Polveri di Stelle è rientrato il nostro Alfonso D'Acerno, mentre a furor di popolo il Golden Boy non l'abbiamo potuto cacciare, anche se era uno scherzo quello che ho detto io nella prima parte, perché era programmata la sua apparizione nella seconda parte e poi fa audience come non fa l'attene. E poi c'è il Presidente Casale che per noi è sempre una gratidissima presenza a Polveri di Stelle come a Turnover. Iniziamo a sviluppare delle tematiche che sono importanti. La prima tematica l'abbiamo vista con il comprensorio miscano, nei derby l'Ariano, il Grotta, comprensorio miscano, derby e clanese, derby importanti e vicini tra di loro, però il Grotta sembra che quando si parli di derby abbia una marcia in più. Ebbè Grotta adesso con l'Ariano ha vinto il derby del derby, è un po' come abbiamo detto prima Bartimaese e Volitana. Gli portiamo le luci dell'anno scorso. Esatto, le luci dell'anno scorso, ha vinto due derby su due quest'anno il Grotta, anche l'andare ha vinto ad Ariano, quindi ha suggellato un po' la stagione, ha salvato un po' la stagione perché ormai i campionati sono finiti per le scuole del centro classifica, sono solo in cinque che lottano per l'obiettivo e in cinque per i play-out. Quindi squadre come Grotta, Veriano, Baiano non hanno più nulla da chiedere al campionato, quindi Grotta che ha regalato ai difusi un 4-0 nel derby contro la Vista, Ariano davvero una domenica memorabile, festeggiamenti posta partita con il regime Red Lions che ho seguito via Facebook, comunque hanno dato il là ad una grande festa ad Grotta Minarda. L'altro è un ritorno quello del regime Red Lions? È un ritorno che fa bene al calcio perché sono degli ultra, veramente degli ultra favolosi che seguono, esatto, competenti, preparati che seguono sempre la squadra fino alla fine, però peccato per il Grotta perché non è una stagione comunque da esaltare quella giallorossa visto che non ha obiettivi. Presidente, diceva Alfonso che ci sono molte squadre di centro classifica che non hanno più nulla da dire al campionato, però in questo scorcio di stagione stanno dando fide da torcere a tutto, segnale positivo proprio perché denota la sportività delle società erpine? Beh no, certamente, il fatto è che giocano senza assilli, evidentemente giocano con una libertà diciamo di pensiero, di come dire, non hanno affatto della classifica e di conseguenza possono fare delle prestazioni che siano all'altezza della situazione e si possono togliere qualche bella soddisfazione anche con qualche squadra diciamo tra virgolette grandi che si stanno giocando a casomai playoff, anche per misurarsi le loro forze che purtroppo durante il campionato non hanno potuto per vari motivi, casomai di giocatori che non hanno reso per quanto hanno reso e poi oppure infortuni e di conseguenza riescono a primeggiare anche con queste squadre qui. Vedo Crutta, vedo Ariano, vedo lo stesso Baiano che possono giocarla tranquillamente sia con le Clanese sia con la Virtus, addirittura con l'Accadia, quando si incontrano tra i loro escono sempre delle belle partite e quindi fa sì che lo spettacolo logicamente ne traia vantaggio. Abbiamo con noi il Presidente Casale anche perché in tutta sincerità la settimana scorsa abbiamo avuto una puntata molto invocata ed era nostro dovere invitare anche il Presidente Casale, ci doveva essere anche il Presidente De Rosa però in serata, nella tarda serata di ieri ha avuto un problemino di salute risolto però non se ne è sentito di venire da così lontano in trasmissione, verrà in una delle prossime. Presidente, abbiamo sviscerato un argomento importante degli albitri, io parto dal presupposto che per me gli albitri molto spesso hanno il fatto di essere coperti dall'essere pubblico ufficiale in campo, quindi fanno degli errori madornali, una classe arbitrale a dir poco pessima nei campionati di promozione eccellente, però a di là di tutto ciò, le Clanese così come il Serino, così come la Virtus, come tante altre squadre hanno subito dei torti, hanno avuto delle cose a favore, però sviscerando le cose Presidente, la sua eclanese, dove la va a collegare, nei torti o nei favoritici? Grazie per l'invito che mi avete dato la possibilità non di rispondere ma perlomeno di focalizzare e mettere luce su alcuni episodi che sono successi durante il corso dell'anno, anche per rispondere caso mai la trasmissione scorso, dove degli esponenti delle società hanno detto delle cose a me che non risultano veritiere e perlomeno la mia versione poi sta alla luce dei fatti poi vedere la cosa. Prescindro che sicuramente facendo dichiarazioni o altro non è che modifichiamo la classifica allo stato attuale. Però mettiamo un pochettino la luce alcune torti che la mia eclanese, credo, abbia subito un poco più degli altri. Vale a dire, io personalmente non ho mai voluto parlare degli alberi. Se mi farò leggere a quanto prima troverò l'occasione per farle vedere, anche sui giornali ho sempre avuto un tono abbastanza basso nei confronti della classe arbitrale, che per quanto si potrebbe dire che sia comunque scarsa, ma io più che diciamo me la prendo con gli alberi, me la prendo soprattutto anche con i vertici che non preparano adeguatamente una classe arbitrale che devono accingersi a fare campionati importanti, semiprofessionisti, se mi permettete questo termine, perché ormai con i tour, cioè con tutti gli allenamenti che fanno durante la stagione, con i budget che le società supportano e con le vostre capacità televisive, giornalistiche, che sembra che durante la domenica sera, sempre che ci sia la domenica sportiva, con i video e tanto altro, perlomeno avrebbero dovuto adeguarsi a tutte queste evoluzioni che il comparto calcistico in questo momento si è evoluto logicamente. Di conseguenza dovrebbero prima capirlo i dirigenti che gestiscono gli alberi e poi soprattutto gli alberi che devono essere molto più preparati rispetto alla situazione attuale. Quindi ho detto, la mia situazione nei confronti degli alberi, vi faccio vedere delle interviste fatte al giornale, ho avuto sempre delle dichiarazioni pacate e non ho mai messo gli alberi, mi sono dovuto ricredere, mi sono dovuto ricredere soprattutto dal girone di ritorno in poi. Da quando, e lo dico per patetico, quando un dirigente, un tesserato della nostra contendente, che è la Virtus Avellino, che ci stiamo giocando, ci siamo giocati in un campionato fino a questo momento, prima del big match, nonostante c'era la pausa natalizia, è andato nelle televisioni a dire che c'era un complotto e che c'era una manafida degli alberi nei loro confronti. Adesso io non vorrei passare, mi è stato detto che addirittura tutto questo era passato a fuori delle clanese, io adesso, come si dice dalle mie parti, non vorrei passare per essere cornuto e mazziato, oppure essere chiamato, cioè il toro chiama cornuto all'asino. Ma da quando ci sono state quelle dichiarazioni, posso garantire che abbiamo subito una serie inimmaginabili di torti, testimoniati, documentati, che quando prima li farò vedere, che hanno permesso, che hanno inviciato sotto alcuni punti di vista la classifica delle clanese. Soprattutto quando si parla che dicono che la differenza l'hanno fatta i due sconti diretti. Bene, nei due sconti diretti noi abbiamo subito diversi rigori inondati, documentati, e tanto altro. Due gol, uno annullato e uno regalato, secondo me il secondo gol di Torsiello nella partita di ritorno con un metro di fuori gioco. E di conseguenza hanno fatto sì che le due partite risultassero negative nei loro confronti, che in questo momento stanno facendo la differenza. Poi abbiamo perso altri punti per strada, perché per tanti altri motivi. Io quest'anno avevo fatto la squadra, che non voglio dare adesso tutta la colpa agli albitri o alla situazione del comparto calcistico, che perlomeno si dovevano difendere da determinate accuse. Non l'hanno nemmeno fatto, quindi uno può dire tutto quello che vuole nelle trasmissioni, nei suoi giornali, non succede mai nulla. Casomai un mio tesserato, poi in una trasmissione sportiva, dice A, ebbene addirittura dobbiamo andare a Roma per andare a rispondere alla procura federale per responsabilità oggettiva. Perché un nostro tesserato si è permesso di dire una parola contro un altro calciatore. Questo per farvi capire. Dicevo, dalla parte nostra non è che abbiamo perso questi due scontri diretti, quindi ha inviciato molto. Però io avevo fatto una squadra, ho fatto una formazione quest'anno, l'ho sempre detto, che doveva superare tutte queste difficoltà che ci sono rilevate. Dovevano essere più forti della sfortuna, dovevano essere più forti dei torti arbitrali, dovevano essere più forti di tante altre squadre che hanno cercato di superarci. Purtroppo non è stato così, soprattutto anche per il nostro demerito. Adesso ci accendiamo a fare questo finale di stagione, cercheremo di piazzarci quanto meglio è possibile per poter cercare di fare i play-off nella migliore posizione possibile. Allo stato attuale credo che manca soltanto la matematica perché la Virtus sia vincitore del campionato. Con questo nei loro confronti nutro anche simpatia e gli auguro nel caso di vittoria del campionato di rincontrarci, caso mai, l'anno prossimo in eccellenza anche con la mia squadra e andare avanti anche con altri scontri sportivi, lo voglio sottolineare. Chiedo scusa anche se mi sono diluncato un po'. No, 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 avete fatto benissimo, anzi era giusto e doveroso. Come ha sottolineato Franco era doveroso sentire anche la sua voce. Fermo restando che alcune cose sono già state chiarite nel corso della scorsa puntata quando noi abbiamo detto che la classe arbitrale purtroppo quest'anno ha manifestato di essere scadente. Lo stesso mister Criscitello proprio in questo studio disse cancelliamo la parola malafede però qualcosa va fatto, come ha sottolineato anche lei Presidente. Quindi sicuramente queste parole non devono restare inascoltate da parte dei vertici che devono prendere gioco forza a provvedimenti. Alfonso, tu sugli arbitri cosa ne pensi? Che sono troppo giovani secondo me perché io ho visto Virtus e Clanese, il rapido di colore che mi ha fatto una buona impressione, devo dire la verità, in quella partita cacciando per doppia munizione per Rilla della Virtus e forse quel gol di fuori gioco di torsiero come diceva il Presidente Casale poi è più dei meritori del guardaline e non averlo fischiato però quello che mi è sembrato un arbitro di polso è forse uno dei meno peggiori del campionato però ho visto anche FC Avellino Virtus Sariano dove c'è stata una terna arbitraria incompetente un calcio di ricorda legato per esempio all'FC. Avellino con un tocco di mano c'è il video di Coda Russo che abbiamo stato anche qui in trasmissione un mese fa. Quindi davvero arbitri troppo giovani e come diceva il signor Presidente Casale che io ritengo sia un signore appunto del calcio perché davvero una persona mai fuori delle righe è colpa dei disegnatori arbitrali. Noi abbiamo lanciato una proposta la settimana scorsa al Presidente Casale glielo ne abbiamo parlato a telefono. La nostra proposta è quella di cercare di portare i presidenti delle squadre sia di promozione di eccellenza, fare una sorta di tribuna politica sul calcio direttantistico portando il commissario regionale Sibilia e il disegnatore degli arbitri e fargli delle domande in diretta a cui poter rispondere e capire perché di tale situazione perché ci sono delle sezioni di arbitri, onestà del vero, che forse non potrebbero avere nemmeno arbitri in prima categoria e ne hanno tanti in eccellenza e ci sono delle sezioni importanti che hanno arbitri importanti Poi c'è anche la parentesi degli arbitri interregionali Gli arbitri interregionali io ho avuto la sfortuna di vedere a Cervinare un arbitro due settimane fa di Monza onestamente forse il suo pedigree era quello che lo presentava perché un arbitro che aveva arbitrato sempre donne, juniores, qualche apparizione in promozione e qualche apparizione in eccellenza mandarlo per una partita del genere signori miei è stato veramente magro, brutto soprattutto per il calcio perché alla fine su un campo del genere si poteva giocare, ne abbiamo visti tante peggie però detto ciò, nel calcio giocato, Presidente la sua Eclanese ha 54 punti, 64 per la Virtus Avellino l'Eclanese con 54 punti negli altri gironi sarebbe la seconda migliore in assoluto e c'è il rischio che non si facciano i playoff né per terza e quarta, né seconda e quinta quindi alla fine, mi auguro di nuovo perché mi piace vedere il calcio però qualora ci sia una sorta di questa situazione si affronterebbe col Cimitile, con le altre squadre e lì parlano già diversamente perché il calcio è un pochino diverso lì è preso, da noi è più buonario lì è molto agonistico forse meno tecnico, io dico meno tecnico del nostro ma sicuramente agonisticamente è difficile e con la sua squadra crede che avendo un allenatore con il Martino che conosce benissimo gli altri gironi da sottolineare può l'Eclanese andare dritta a cercare di salire e vincere e dappertutto, semmai giocando in casa la finale beh, noi sono calcoli che sicuramente lascia il tempo che trovo sicuramente se ne facciamo diciamo che noi siamo secondi a 54 punti attualmente potremmo essere addirittura primi in altri gironi non soltanto non la migliore seconda ma addirittura primi negli altri gironi quindi il nostro obiettivo è quello di diciamo di fare quanto più punti possibile da adesso a fine campionato sinceramente interessa poco se facciamo meno di 10 punti per fare il play out un turno in più di play off chiedo scusa io se la mia squadra gioca senza stile senza diciamo altre distrazioni sinceramente ho poco da preoccuparmi per tutta una serie di motivi noi giochiamo su un campo il nostro malgrado che non è proprio tra i migliori per usare un eufemismo quindi qualunque squadra verrà lì a Mirabella se faremo i play off in casa credo che avranno delle difficoltà noi cercheremo di farli in casa cercheremo di non far fare i play off cerchiamo di raggiungere i massimi punti per addirittura non fare un altro turno perché purtroppo sulla partita secca c'è sempre la difficoltà che addirittura un tiroso io non posso mai dimenticare un play out in eccellenza contro la tripalda nel mio primo anno giocammo un play out in casa con il ponteggio di 0 a 0 che avevamo due risultati su uno mi ricordo al 120 un rigore dubbio credo che sia dubbio anche se mi hanno assicurato chi l'aveva fatto che non l'aveva toccato che poteva starci a fuori della tripalda e invece poi non ci fu al 120 poi c'era pochissima possibilità poi di andare a recuperare quindi sulla partita secca è sempre difficile l'anno scorso hai vinto a brutto minare la gara secca poi si è andata in finale un'altra partita secca l'abbiamo vinta lì al 90 al 85 perdavamo 2 a 1 commentato io evocando i passati quindi può succedere tutto sabato torna un passato che vi ha dato un brutto passato perché il San Martino l'anno scorso è riuscito a fermare le clanese il Cervinara e anche il Paolisi decidendo le sorti del campionato in buona parte sabato le clanese va a San Martino con una squadra che ha un allenatore che conosce benissimo la categoria una squadra con tanti giovani però secondo lei che gara sarà? io ho detto in tempi non sospetti in un'intervista iniziale del campionato dove qualcuno mi diceva domenica abbiamo una partita più facile risposta da parte mia ha detto in promozione come in eccellenza partiti facili non esistono ogni partita ha la sua difficoltà e ogni squadra gioca con il coltello tra i denti perché c'è sempre qualcosa a cui ambire adesso noi ci troviamo il San Martino che ha fame di punte perché sta cercando di evitare i play out ma vi posso garantire che la affronteremo con lo stesso piglio che potremmo affrontare la Virtus o l'Hadia quindi la differenza di punti la differenza di casomai anche di squadra sinceramente io farò di tutto il possibile da far capire alla mia squadra che non ci deve essere anzi sarà ancora peggio perché loro giocano in casa con l'assillo di poter fare bottino pieno per togliersi dalle sabbie mobile dei play out quindi sarà ancora più difficile per noi anche perché poi queste formazioni tra virgolette di bassa classifica stanno dando un po' filo da torcere a tutti la settimana scorsa la Giuseppe Siconolfi ha pareggiato ha affermato il Serino che poteva approfittare per scavalcare momentaneamente l'Hadia e arrivare al terzo posto e quindi sarà veramente dura per tutte le formazioni di alta classifica anche perché non so per le clanese ha detto il presidente che non ci sono problemi però per le altre formazioni inizia a diventare pesante la situazione perché si inizia appunto a sentire la finale di stagione e quindi i play off si fanno o non si fanno questo è il dubbio che incombe in queste società abbiamo proprio un servizio sui Siconolfi che è una formazione di bassa classifica che nelle ultime partite sta cercando di posizionarsi al meglio per la griglia play out invece è chiamato a compiere un'autentica impresa salvatore sicuranza alla guida della Siconolfi il tecnico di Bisaccia con la squadra di Sant'Angelo sta cercando di ottenere il migliore piazzamento play out i nero stellati sono reduci dall'ottimo pareggio contro il Serino una gara in cui l'undici Sant'Aggiolese ha mostrato un ottimo calcio giocando a viso aperto con i più quotati avversari in una formazione che sta cercando con le unghie e con i denti di raggiungere la permanenza in promozione stanno brillando Angelo e Amato Scela giunti nel mese di dicembre in bianco nero e fedelissimi di sicuranza i due giocatori hanno innalzato tasso tecnico ed esperienze del gruppo nel prossimo turno la squadra osserverà una giornata di riposo poi ci saranno gli scontri diretti contro Artemisium e San Martino così come le sfide contro Vissariano e Declanese due gare difficilissime in cui sicuranza cercherà di fare più punti possibili ma il presidente Angelo Competiello guarda il futuro con fiducia beh assolutamente prima di tutto raggiungere questa quota necessaria per fare il play out è difficile sinceramente almeno stando anche al calendario però se giochiamo come oggi scusate la presunzione ce la possiamo giocare con tutti sinceramente bene abbiamo sentito le parole del presidente del Sigonolfi e sicuramente tutti se la vogliono giocare perché tutti vogliono evitare i play off tutti vogliono evitare quella quota che diventa fastidiosa oltretutto diventa estrenuante perché alla fine dopo un campionato giocato giocare i play off oltretutto riposando 15 giorni perché non è che si gioca nell'immediato diventa veramente la metà maggio i play off sì la metà maggio terza settimana di maggio il 21 maggio si giocano i play off play off e play out quindi diventa tutto più difficile ma indipendentemente da ciò Alfonso il campionato di promozione oggi c'ha un'incognita l'incognita è rappresentata dal Baiano a mio parere perché il Baiano ironia della sorta è inguaiato il Paolisi Paolisi perdendo il caso con il Baiano e magari non riesce a fare qualche altro risultato importante può ritenersi può essere escluso dai play off ma giocando un buon calcio perché da quando c'è Cagnale gioca un buon calcio il Paolisi dici non il Baiano il Paolisi il Baiano è la mina pagata esatto poi sabato va in casa della Virtus che fermò la squadra all'andata la prima volta che è stata stoppata 2 a 2 che è stata stoppata la Virtus poi c'erano 800 spettatori quindi là fu una bella domenica di sport andai a vedere la partita è bello fatto davvero mi divertì molto alla fine il Paolisi io dico che anche io ho amici in casa Virtus parlo in casa non me ne voglia sono simbolizzato della squadra di mister Cricitella di G. Mallard del duo salvati per Oziello però anche con loro io schiettamente ho detto Eclanese Accaria e Paolisi giocano meglio di voi e a conti fatti è così perché la Virtus sfrutta il singolo in tutto e per tutto invece io ho visto giocare Eclanese e Serino e ogni volta che ho commentato l'Eclanese la scuola di Martino che è lui un tecnico che martella i giocatori in panchina parte da dietro a giocare due tocchi c'è una squadra veramente che gioca un calcio bellissimo secondo me non ha vinto il campionato l'Eclanese perché è stata troppo bella rispetto alle altre squadre ha perso partite assurde ha perso punto in casa con l'Accadilla e con il Grutta giocando forse troppo bene non ha mai una giocata sporca che ha consentito appunto la squadra di Mirabella di vincere le partite forse un po' più sulla carta agevole mentre la Virtus è stata una macchina da guerra dove Montella ha vinto 1-0 grazie all'errore dei difensori ha sfruttato contro l'Eclanese ha sfruttato quello che deveva sfruttare cioè ha vinto veramente partite con il carattere grazie alla forza di un gruppo forte di tutti i reparti ma a livello di singoli invece l'Eclanese è una squadra che non perdona ha il suo meccanismo rodale sia una squadra di categoria ci sono secondo me due punti focali il primo credo che è stato quando noi abbiamo raggiunto la Virtus noi abbiamo fatto il campionato di andata a rincorrere alla Virtus perché la Virtus già dopo la decima giornata per gli addetti lavori ha già avuto il campionato invece poi si è visto arrivare l'Eclanese e alla quindicesima giornata avevamo pari punti quindi forse credo che da parte nostra ci siamo un pochettino seduti c'è stata la famosa sosta perché non c'è stata di nuovo quella voglia di diciamo di primeggiare convinti che poi casomai con qualche punto perso si potevano recuperare facilmente invece poi così non è stato e un altro punto che non nessuno ha mai diciamo focalizzato è che l'Eclanese la mia squadra gioca sempre e questo un altro un altro un altro diciamo un altro fatto che diciamo alla fine che ha inciso secondo me quindi stiamo stati vantaggiati dal fatto che la squadra con cui giochiamo la domenica il turno precedente ha riposato cioè proprio dall'origine non è fatto una cosa fatta bene perché e poi giochi col Siconolfi dunque sì dalla prima giornata all'ultima giornata quindi una squadra che deve giocare contro di noi ammesso che abbia qualche infortunato lo potrebbe recuperare tranquillamente potrebbe preparare la partita contro di noi con una serenità e con una facilità diciamo di allenamento e noi abbiamo il Siconolfi la due settimane giochiamo con il Siconolfi diciamo che domenica ha riposato però domenica prima San Martino aveva riposato diciamo che indipendentemente da ciò io vado a individuare almeno dalla mia prospettiva racchiudo le quattro squadre in determinate parole chiave la Virtus è una squadra di categoria con giocatori di categoria ma soprattutto votati al sacrificio e sanno fare i single il Leclanese è una squadra con tre o quattro di altra categoria Leclanese è una squadra che è un'ottima squadra nel complesso però spesso è propensa ad attaccare e può rischiare in difesa mentre l'HDA è stata costruita due volte quindi ha perso tempo veramente lungo il Paolisi è partito in ritardo il Serino è partito in ritardo questa è l'analisi di tutto il campionato altrimenti sarebbe stato un campionato bello e vincente fino alla fine giusto che lo vinca il Serino giusto che Leclanese sia dove si trova e le altre squadre lottano per un posto al sole perché hanno sbagliato troppo a mio parere detto ciò dalla regia ci stanno segnali di fumo anzi ci faranno una testa di fumo qualora non finiamo io saluto il grande Alfonso Dacir poi saluto per la seconda volta in modo affettuoso il grande Alfonso Marrazzo al presidente Casale non posso dire che grazie per la sua fattiva collaborazione sarà ospite anche in qualche altra partita perché il proseguo delleclanese sia sempre più roseo bene per questa sera è tutto Polvere di Stelle vi saluta così come lo fa Franco Pitanieri Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.